Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ricetta per aiutare le persone che iniziano a avere i capelli bianchi a ricolorarli. Ovviamente utilizzando questa ricetta un paio di volte alla settimana per un bel po' di tempo. E ci servirà soltanto l'aloe vera, il succo di limone e il caffè. Partiamo subito. Andiamo a mettere il caffè all'interno di una ciotolina. Io ne metto un cucchiaio abbondante. Poi andiamo ad aggiungere del succo di limone e aggiungiamo dell'aloe vera, gel. Rimescoliamo. Cerchiamo di creare un composto omogeneo. E lo andiamo ad applicare sui capelli. Il risultato è questo. Il risultato è questo. E lo andiamo ad applicare sui capelli. Lo lasciamo in posa un quarto d'ora e sciacquiamo. Come se fosse una normalissima maschera. Fatemi sapere se vi è riuscito. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!